Saro! 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 Ma ne sai, feci bene a se... Ci sono novità! E' Moshinca! Dimmi tutto, Saro. Allora, che novità ci stanno? Mariseca, ti devo ringraziare... Che hai già fatto? Che fosse un giupare l'assassino di Vito. È vero? Sì. Devo andare a parlare con il commissario Berrino perché lo devono riaprire al caso. Saro? Ma che se è una notizia troppo bella? Se non c'eri tu che mi consigliavi di continuare l'indagine da solo, astura. Ma se riesci a guardare di tosse, stai diviso. Mariseca, ma che fai? Piangi? Io ti do una bella notizia e tu piangi. No! Aspetta che ti prendo il fazzoletto. Eh, non ho trovato il fazzoletto. Non devi piangere. Questa è una notizia bella. Bella quasi come te. Ah, kim è? No, ah, ah. Eh, eh, così. Ciao. Grazie a tutti.